Finale di 2019 peggiore per la Cireale non poteva esserci. Prima il K.O. interno con il Giuliano che aveva leggermente sbiadito l'exploat di Palermo, poi la penalizzazione in classifica di 4 punti ed infine la clamorosa rimonta subita ieri dal Savoia avanti di due golli. Granata sono crollati a pochissimi minuti dal novantesimo. Derby del cuore amaro dunque nonostante il clima di festa sugli spalti, tifoserie gemellate da anni e fuori dal campo tra le due società. Mister Pagana lancia dal primo minuto Wattara preferito a De Felice e Ottvale al posto di Arena. E' proprio la seconda scelta e la più felice perché l'argentino all'esordio della primo minuto in maglia granata in mezz'ora porta la Cireale sullo 0-2. Al tredicesimo fa 0-1 con la complicità del portiere di casa Coppola, poi al ventoattesimo realizza la doppietta personale con questo preciso diagonale, stavolta però imparabile per l'estremo difensore Oplontino. In mezzo la reazione del Savoia e lo svantaggio, prima con Diachite anticipato dall'ultimo da un intervento super di Sicignano, poi con il colpo di testa debole di Poziello parato da Pitarresi. Ci prova anche Osugi dalla distanza ma non trova la porta, poi è Orlando a salvare sul più bello ancora su Diachite. Il primo tempo sembra chiudersi per il granata con il doppio vantaggio ma al 45esimo il Savoia torna in partita sfruttando l'indegisione di Pitarresi sul colpo di testa di Diachite. Poi è fortunato Rondinella ad essere al posto giusto nel momento giusto sul tiro cross di Cerone. Nella ripresa poi dopo sette minuti Orlando pareggia i conti ribadendo in rete sulla parata di Pitarresi su Diachite e la gara cambia definitivamente volto. Anche perché la Ciali avrebbe subito la possibilità di riportarsi in vantaggio con Rizzo ma stavolta Coppola è decisivo sullo scavetto del 10 Granata. Il Savoia allora si riversa in avanti alla ricerca del gol del 3-2 anche perché da Palermo arrivano nel frattempo notizie confortanti. La difesa accese regge come può all'urto degli Oplontini, poi al 27esimo la Ciali resta anche in 10 uomini per il doppio giallo Arizio e si comincia a giocare a Porta Romana. E' un assalto al furtino, quello del Savoia che sfiora il 3-2 ripetutamente con i vari Scalzone, Cerone e Orlando. 3-2 che arriva all'86esimo con la spizzata di testa di Capitan Poziello sulla quale non può nulla Pitarresi. Esplode il giro, la Cireale si riversa in avanti alla disperata ricerca del pari nei minuti finali ma lascia il fianco scoperto al contropiede di Scalzone che all'89esimo chiude il match sul 4-2. Festa del Savoia che balza a meno 3 dal Palermo capolista, per la Cireale invece un amaro Natale al secondo K.O. di fila che, unito alla penalizzazione, fa scivolare Granata addirittura nella parte destra della classifica.